Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi ci sostegniate premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci a continuare e fornirvi il meglio. Se una serie di forti tempeste di neve colpiranno l'Italia negli ultimi giorni di questo mese, febbraio 2024, lo scenario temporalesco del 2012 potrebbe ripetersi nuovamente negli ultimi giorni di questo mese, febbraio, e nei primi giorni del prossimo marzo, poiché le ultime previsioni dei centri internazionali di monitoraggio meteorologico indicano la possibilità che una massa di ghiaccio molto grande entri nell'Europa occidentale, separandosi dalla massa madre e trasformandosi in una massa che ruota da sola nel regione del bacino del Mediterraneo occidentale. Questa massa molto fredda si dirigerà direttamente verso l'Italia negli ultimi giorni di questo mese, febbraio come dicevo soprattutto dopo il 27 febbraio, e continuerà ad interessare l'Italia per diversi giorni, con forti tempeste di neve attivi al nord, al centro e anche all'estremo sud, che si tradurranno in una caduta di grandi quantità di neve, accompagnata da un'ondata di freddo molto forte, da gelate e da temperature record e sotto lo zero. L'atmosfera relativamente calda e stabile, perché l'inverno sta arrivando e sarà forte. C'è un grande cambiamento nelle condizioni meteorologiche dopo il 24 febbraio, con la situazione che diventa più grave con gli ultimi tre ghiorni di questo mese, febbraio. Seguiremo tutti gli ultimi aggiornamenti e maggiori dettagli riguardanti le zone specificatamente interessate dalle nevicate, cercheremo di informarvi più tardi e quando il periodo si avvicinerà di più.